Volvo lavora nell'elettrificazione delle autovetture, includendo anche i sistemi di sicurezza relativi alla vita e le prestazioni delle batterie. Questa è la prospettiva fondamentale della casa automobilistica svedese, che intende offrire delle autovetture elettriche Volvo sicure come tutte le altre Volvo, sia quando bisogna collegarsi alla corrente elettrica nel momento della ricarica, sia quando viene guidata e anche in caso di eventuale incidente. Noi applichiamo gli stessi standard di sicurezza che in tutti i nostri altri prodotti, ma la sfida nel settore della sicurezza è diversa secondo il tipo di combustibile utilizzato. Per noi, la tecnologia dell'elettrificazione della vettura è un'altra sfida molto importante per il nostro obiettivo di costruire le vetture più sicure in assoluto. È importante capire che molte questioni riguardanti la sicurezza nell'elettrificazione delle vetture sono relative a cosa può succedere in caso di incidente, ma considerando che meno dell'1% delle nostre vetture sono coinvolte in incidenti durante la loro vita, dobbiamo adottare un approccio logico includendo da una parte simulatori e dall'altra una statistica di tutte le situazioni che si trovano nell'uso quotidiano della vettura. Volvo attualmente svolge diverse analisi in una varietà di scenari per quanto riguarda la sicurezza delle proprie vetture equipaggiate con trazione elettrica. Attraverso un sistema avanzato di monitoraggio delle batterie e dell'alloggiamento protetto del pacco batterie in caso di collisione si ottengono ottimi risultati per quanto riguarda gli standard di sicurezza. L'approccio realistico tenendo conto delle situazioni del traffico reale è sempre il punto di partenza del nostro lavoro nel settore della sicurezza. Sulla base del nostro enorme database con input della tipologia degli incidenti stradali sappiamo in che punto della vettura lavorare per aumentare la sicurezza nel traffico di ogni giorno. Tuttavia le soluzioni che abbiamo adottato per le nostre vetture elettriche del futuro tengono conto dei parametri diversi. Tutto quanto viene prodotto dal momento dell'inizio della costruzione fino al riciclaggio viene accuratamente analizzato e l'informazione ottenuta servirà per incrementare la sicurezza e la qualità nella costruzione delle vetture di serie. I test di sicurezza di Volvo vengono eseguiti in diversi step. Il primo a livello dei componenti, quindi in tutti i sistemi e finalmente nella vettura completa che viene collaudata prima virtualmente al computer e dopo fisicamente nel centro tecnico di crash test di Volvo. Attualmente stiamo conducendo dei test a livello di componenti per capire come vengono sottoposti a sforzi di un certo tipo durante una brusca frenata e il successivo impatto in un incidente. Valutiamo gli effetti della collisione da diverse angolazioni, sviluppando per la prima volta dei crash test in scala 1 a 1 per valutare il comportamento complessivo di tutta la tecnologia utilizzata nelle auto elettriche. Volvo utilizza attualmente il know-how che possiede dalle attuali condizioni del traffico che ci permette di analizzare dettagliatamente le conseguenze a livello tecnico, ma è molto importante che nei regimi dei test vengano impiegate le richieste e i protocolli degli istituti di sicurezza industriale. Quando Volvo analizza le situazioni del traffico da una prospettiva della sicurezza, gli ingegneri utilizzano un modello che illustra la sequenza degli eventi durante le diverse fasi della circolazione. Il processo è diviso in cinque fasi, dalla guida in circolazione normale fino al dopo incidente. Sulla base di queste cinque diverse fasi, Volvo sviluppa nuove soluzioni per la sicurezza e migliora quelle già esistenti. Tutti i sistemi di sicurezza attualmente esistenti nelle vetture Volvo saranno disponibili anche nelle vetture elettriche della casa svedese. Tuttavia, per quanto riguarda i veicoli elettrici, si aggiungono altri nuovi possibili scenari che vengono anche valutati. Gli esperti di sicurezza di Volvo hanno analizzato accuratamente la sequenza delle cinque fasi ed hanno sviluppato una soluzione per la protezione delle batterie ed ovviamente per la protezione degli occupanti della vettura. Nella circolazione normale, il sistema di monitoraggio controlla che ogni cella delle batterie mantenga il livello di voltaggio corretto e la temperatura ottima di esercizio attraverso la regolazione del sistema di raffreddamento. Questo permette di aumentare la vita delle batterie e la sicurezza dei passeggeri. Nel caso di funzionamento anomalo, le batterie vengono automaticamente bloccate attraverso i sistemi elettronici, misura preventiva per evitare danni maggiori. Le batterie aggiungono peso al veicolo e questo peso può modificare le condizioni dinamiche creando nuove condizioni, ad esempio nelle manovre di emergenza per evitare gli incidenti. Le piattaforme esistenti in Volvo Cars permettono di modificare il sistema dei freni adattandoli alla massa complessiva del veicolo e il sistema di controllo di trazione e di controllo della stabilità dinamica, DSTC, aiutano il conducente a controllare la situazione. Se la collisione è imminente ed il conducente trova problemi per gestire la situazione, il veicolo è in grado di attivare sistemi automatici quali il Collision Warning with Full Auto Brake and City Safety, in modo di evitare o ridurre gli effetti dell'impatto. Questi sistemi saranno disponibili anche nelle vetture elettriche. In caso di collisione, per ridurre gli effetti le batterie sono ben protette e separate dall'abitacolo, poiché è alloggiata all'interno di un involucro in acciaio con particolari rinforzi nella struttura. In caso di danneggiamento delle batterie con fuga di gas, ci sono particolari condotti di evacuazione che inviano il gas sotto la vettura. In caso di un grave incidente, gli occupanti sono protetti dalle batterie grazie a queste particolari scatole appositamente studiate. Nel momento dell'impatto, particolari sensori di crash collegati alle batterie inviano delle informazioni riguardo la collisione al computer di bordo, che automaticamente chiude il contatto per evitare il rischio di cortocircuito. Inoltre, le batterie possiedono dei particolari sistemi di sicurezza che permettono di evitare le conseguenze di un cortocircuito interno, isolando le celle oppure i componenti danneggiati, come ad esempio due fili sotto pressione all'interno del pacco batterie. Volvo lavora anche nei servizi di soccorso e di emergenza dopo l'incidente, con precise istruzioni di come maneggiare diversi modelli Volvo in caso di collisione. Le vetture sono in tutti i casi equipaggiate con il sistema di taglio della corrente, mentre Volvo Cars, in collaborazione con i fornitori degli accumulatori, hanno siglato degli accordi precisi di responsabilità riguardo sia la produzione che il riciclaggio di tutti i componenti. Questo assicura un trattamento adeguato delle batterie quando arrivano alla fine della vita utile. Abbiamo osservato che le vetture elettriche possono risultare molto più sicure di quelle equipaggiate con i motori a combustione interna convenzionali. Guardiamo la sfida dell'elettrificazione delle vetture come qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista della sicurezza.